Ciao Stefano, giro questo video per far sentire anche te un po' azzini, ma soprattutto per farci sapere che ci sono vicina anche da questo lontano, quindi spacchi come sempre e tanti saluti dall'Australia, ciao ciao! Ciao Stefano, sono Walter, allora ti faccio gli auguri di pronta guarigione, che ritorni tra noi, bello carico e ti auguro anche buone vacanze di Natale dell'anno nuovo, che porti tante belle cose per te e veramente, stay rock! Ciao Stefano, sono Mattia Casabona, il docente di canto moderno e scream, vocalità estreme, volevo augurarti una buona guarigione e spero che tutto vada bene nei prossimi giorni, tanti auguri anche di buon Natale e buone ferie, sono vicino, un abbraccio! Ciao Stefano, sono Davide, volevo augurarti buona guarigione e farti gli auguri di Natale e di buone feste, ci vediamo! Auguri Stefano! Ciao Stefano, ciao Stefano, volevamo farti gli auguri di buon Natale, buon finito anno nuovo e di buona guarigione, mi raccomando! Ciao, bacio! Ciao! Ciao Stefano, sono Mara e con Luca volevamo farti tantissimi auguri di pronta guarigione e un sereno Natale di Natale! Ciao! Ciao Stefano, ciao! Volevamo farti gli auguri di Natale! Sei tanti auguri di Natale, di buona guarigione e di qualcosa? Ma di tutto! Ci vediamo poi la prossima volta per fare i compiti! Te li faccio io i compiti! Esatto! Soprattutto se sono di matematica! Comunque, niente, voglio augurarti buon Natale e speriamo di rivederti presto al Rock Lab! Ciao! Ciao Stefano! Ciao Stefano! Siamo qui per augurarti un buon Natale e una pronta guarigione, sperando che vada tutto per il meglio, ci manchi tantissimo e speriamo di vederti al Rock Lab al più presto in piena forma perché abbiamo dei batteristi che sono veramente inascoltabili! Buon Natale! Buon Natale! Buon anno! Buon anno! E tanti auguri per tutti! Ciao Stefano! A presto! Ciao! Ciao Stefano! Come vedi il Flambino non ti abbandona anche in questa piccoltà ma noi siamo sicuri che tu ce la farai perché sei un grande uomo e a te dedichiamo questa canzone! augurisci presto! Ciao! 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 Levo questa spada all'ora verso il cielo, il giorno sarò la voce contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i perdoni, arriveranno i morti, soccheranno i mari, oltre queste nuove troverò la gioia, o forse la mia figlia comunque sarà la gioia, e non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono quello di Ero, vedo quando è notte, ti difenderò dai coppie e tristezze, ti riparerò dai grandi maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture, non temere nulla io sarò il tuo pianto, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. L'amore è il mio grande amore che mi credo, vinceremo con tutti e resteremo in piedi, e resterò tuo pianto fino a che vorrai, ti difenderò da tutto e non temere mai. L'amore è il mio grande amore che mi credo, vinceremo con tutti e resteremo in piedi, e resterò tuo pianto fino a che vorrai, ti difenderò da tutto e non temere mai. Temere il drago fenomenoso fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo, lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò non disperare, per te io mi rialzerò. L'amore è il mio grande amore che mi credo, vinceremo con tutti e resteremo in piedi, e ti darò il parco contro le tempeste, e ti terrò della mano per scaldarti sempre, attraverseremo insieme questo regno, e accenderò con te la fine dell'inverno. L'amore è il mio grande amore che mi credo, vinceremo con tutti e resteremo in piedi, e resterò tuo pianto fino a che vorrai, ti difenderò da tutto e non temere mai. L'amore è il mio grande amore che mi credo, vinceremo con tutti e resteremo in piedi, e resterò tuo pianto fino a che vorrai, ti difenderò da tutto e non temere mai. Ti saranno luce, accezza e di speranza, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giù non sarò la noccia contro il fuoco e il gel, è il mio su di te e io sono il tuo guerriero. Ciao Stefano! Cari ragazzi, presentatevi e salutate Stefano per Natale e per fargli auguri. presentati. Ciao Stefano, sono Andrea, piacere, molto piacere, no scherzo, fratelli scherzi, ti volevamo salutare, ti volevamo augurare una buona guarigione, e speriamo che tu possa tornare molto presto a suonare con noi, ci manca il batterista, abbiamo sostituto qua, però... Che però non è Stefano ecco. Ci manca il nostro caro Stefano. Molto più bello di Alessandro. Molto più bravo, oserei anche dire, perché... Più bello, più bravo. E vedi di riprenderti, perché poi assolutamente un'altra lezione non te la toglie nessuno. Ciao Stefano, noi siamo i Brain The Cycle e ti vogliamo augurare una buonissima guarigione, ma soprattutto ti auguriamo un buon Natale e speriamo di vederti presto. STOY ROCK! Ciao Stefano! Ciao Stefano! Ciao Stefano! Noi siamo i Bastard All Man, insieme allo zio Pol. Ciao Stefanino! Ciao! Ciao! Facciamo questo video per salutarti e per sperare che tu riesca presto a rimetterti e tornare da noi e da Luke. Noi scherzi, ma io con i Devil Metal mi manco un casino. voglio davvero averti nuovo sul palco e te l'avevo già letto ma te lo ripeto e davvero spero possa andare davvero un po' bene perché ti conosco da tre anni con questo e in questi tre anni posso dire che sei un caro amico. Buono di poi lasciare solo la batteria a lui, cioè per amore di Dio vedi di riprenderti perché sennò Walter lo ammazza perché la spacca, quindi vedi di... Soprattutto io approfitto per salutarti per farti i migliori auguri e mi associo come Paolo, come musicale, insomma visto che i fanciulli erano qua a provare mi sono inserito di soffiatto. Ti aspettiamo sicuramente perché il brio che tu dai non tanto quando suoni, adesso tu riderai, ma quando tampini da ragazze e non le lasci vivere diciamo che... di poster, di musica che sappiamo che sappiamo essere nella tua vita e quindi ti ripeto ci auguriamo di rivederti presto con il banchettino. Ne approfittiamo anche per un buon Natale perché non sappiamo quando vedrai il video. Buon Natale. Anche a me. Ciao. Anche a me. 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 Allora, facciamo questo, questo, questo breve video, perché vogliamo guardarti un buon Natale, un buon Natale, un buon Natale e ti auguriamo buona fortuna per tutto e speriamo di rivederci presto, quindi buon Natale dai Kuma, noi la penseremo tantissimo, lo pensiamo spesso, si, ti pensiamo spesso, proprio muscoloso, potentissimo, Hulk, altro che Hulk, ci serve gente che puoghi, esatto, no, ci serve la gente che puoghi, come te, esatto, è perché tu sei spesso, quindi niente, speriamo davvero di rivederci presto e ancora una volta buon Natale, ciao Stefano, Douglas ci ha chiesto di farti avere questo video di auguri per una pronta guarigione e noi siamo una band musicale, quindi condividiamo la tua stessa passione, io sono Larenna, Francesco, io sono Mauro il babbo Natale, Paolo il colletto, io sono Marco e sono Suoi. Esatto, e niente, quindi con questo video ti auguriamo veramente una pronta guarigione, in questo momento difficile, insomma, tieni duro e poi ti invitiamo, quando ti sarai rimesso, a un nostro concerto, quindi saremo felici di averti tra il pubblico insieme a noi, quindi auguri di pronta guarigione e... Ciao! Ciao! Ma cosa cazzo è Paolo? È da un'altra parte? Così, no, così cazzo. Ma no, no. Ciao Stefano, noi siamo i... Barnals! Dobbiamo guardare qua. Ma io guarda qua. Dov'è? Guarda, guarda negli occhi. Ciao Stefano, noi siamo i... Barnals! E siamo qua per farti un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione, da Larenna. Il nano. Tu sei il babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale? Cos'è, come che si chiamano? I polletti. I polletti. I polletti. E io. Io sono Francesco. Mauro. Paolo. Marco. E una volta che sarai guarito saremo contenti di invitarti a un nostro concerto, così se vuoi prenderti ancora meglio, viene appunto a un nostro concerto e sarà sicuramente una figata spaziale. Perché faremo del nostro concerto? Ma sei in effetti? Sì, cosa sei? Ciao Stefano! Ciao! Ciao Stefano! Ciao, ciao people! Ciao Stefano! Douglas ci ha chiesto di farti questo video, un video direttamente dal Polo Nord. Ciao Stefano! Allora, Douglas ci ha chiesto di farti avere questo video, un video di pronta guarigione che ti facciamo noi, che siamo i Barrels, un gruppo musicale appunto che a sedia arriva. Ma perché? Che dove vai? Ciao Stefano! Douglas ci ha chiesto di farti un po' spiegare. dobbiamo ringraziare tantissimo Alessandro Chea, che è il sostituto. Allora, non solo noi siamo i sostituti di un altro gruppo che dovrà suonare, il Devil Metal, ma lui sostituisce il batterista del gruppo di sostituzione. Ok? Allora, mi permetto, visto che c'è la telecamera lì, gli facciamo gli auguri di Natale e di pronta guarigione a Stefano Agli, che non sta niente bene, ma è uscito ieri dall'ospedale, quindi siamo veramente contenti per questa cosa. Ciao Stefano! Ci vediamo presto a Roplamo! Ciao! Volevamo, volevamo mandare a Stefano i nostri più grandi auguri, dai noi in Torino, tutto il Mc Ryan e dal cuore della musica per Stefano! Grazie! 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 Ciao Stefano! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!